Più 98% negli ultimi 5 anni e oltre 640.000 viaggiatori solo negli ultimi 12 mesi. Il 2022 si è chiuso con numeri record per il servizio di collegamento ferroviario passante per l'aeroporto internazionale Carol Voitigua di Bari, operato da Ferrotramviaria S.P.A. Il numero degli utenti che quest'anno hanno utilizzato il collegamento ferroviario da e per l'aeroporto di Bari ha superato di oltre il 33% l'ormai vecchio record di oltre 430.000 viaggiatori del 2019. Un traguardo reso possibile grazie anche alla forte collaborazione e all'ampia offerta di collegamenti messi a disposizione da aeroporti di Puglia, non a caso anche per loro con numeri da record di 6,1 milioni di passeggeri che hanno scelto lo scalo aeroportuale di Bari per viaggiare, più 11,9% rispetto al 2019, mentre 9 milioni di viaggiatori nel 2022 considerando anche gli altri scali pugliesi. Inoltre, nella piena attuazione degli obiettivi europei per la promozione della mobilità sostenibile e della crescita della percentuale di share intermodale, la modalità di trasporto treno più aereo ha evidenziato con valori di costante crescita ogni anno che oltre il 10% dei viaggiatori ha utilizzato il treno come mezzo di collegamento da e per lo scalo aeroportuale barese.